Ragazzi E vai ragazzi abbiamo finito la scuola E adesso sapete cosa si fa Andiamo tutti quanti insieme In camera mia A fare una bella festa Che ne dite Ovviamente però dobbiamo comprare le cose Perché per la festa servono Le patatine E tutto il resto E quindi adesso andiamo a comprare le cose Andiamo al supermercato Anche perché mia madre mi ha dato i cash Possiamo andare a comprare tutto quello che vogliamo Dai è di Roma Allora Fatemi posteggiare qua Perfetto ci siamo Prendo il carrello solo io va bene Ecco qua Come si prende Ci serve il pulivetro Qua c'ha la pizza Dobbiamo prendere le cose Zoe La pizza si prende Ovviamente Qui c'è la soda Ho preso la carne per sbaglio Vabbè la carne ci sta Anche la carne Anche la pizza Esatto Ok Le uova Magari possiamo comprare pure le uova E qui c'è la verdura C'è la verdura la banana che piace tanto a Zoe E dopo di che andiamo qua Un bel pollo Ecco fatto Una bella mela Ecco qua Ok La soda La soda Dov'è No il latte È gelato Perfetto E cosa c'è qua Zoe Zoe di sera ma sei tu Mamma Che cosa ci fai qui No ma guarda No ma guarda di queste vestite Tutta bene Vabbè Sì ho capito Ragazzi andiamo Chi è lei È tua madre Ma no ma non mi presenti i tuoi amici Salve ragazzi Io sono sbrister chiaro Io Elox Già lo sai Io rucco Però mi conosco come il fresco Dezona Che carini È un piacere di conoscervi Io sono Vanessa L'amma di Zoe Oh Vabbè Ciao mamma È stato bello Andiamo ragazzi Ma come Non mi racconti un po' Che cosa state facendo Beh Stiamo facendo la spesa Per una festa Una festa mega galattica Che si tiene a casa mia signora Una festa Oddio Io Non partecipo a una festa Da tantissimo tempo Sai cosa Mi piacerebbe tantissimo Partecipare ad una festa Giusto Per sentirmi Giovane Come una volta No 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 La mamma è festa Ma state vizziti La mamma No mamma Guarda Non è il caso Perché A parte che loro puzzano E poi comunque Non è una festa per te Non ti piacerebbe Fidati Quindi Puoi anche andare via Ma Zoe Io ci darei veramente Tantissimo Parteciperò a questa festa Non voglio Non voglio Ma tuo pane ha comprato Tua madre Ma che cosa deve fare Con quel pane Devo fare un po' di panini E Zoe mangia per 5 E quindi Si prende un po' di tre Ha ragione Va bene Va bene Va bene D'accordo Non preoccupate Ragazzi Dovremmo posare un po' di cose Perché Oh no Ho posato tutto Va bene Deve rendere solamente le chips In realtà Quindi perfetto Abbiamo le patatine Va bene Perfetto Andiamo Ok Ci vediamo molto presto Arrivederci Ok Ciao mamma Ecco fatto Uno Due Tre Automatico Cinque Sei Sette Sbri Otto Quante ne hai preso Nove Dieci Undici Chiaro Ce lo sai Ok Che brutto numero undici Arrivederci 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 Salve Ah Ho salutato tu ma Ok Vanessa La donna con la Sbettila Non si dicono queste cose Non è che vuoi fare la regola della maniglia Qual è la regola della maniglia Prima la mamma E poi la figlia No Non penso fra anche perché la mamma non mi piace No ma comunque non la vedrete mai più mia mamma Come no Perché non è nemmeno da queste parti Ah beh meglio così allora zio Piano penthouse e io c'ho la casa qua Oh Sono andato avanti ragazzi sono andato avanti E già Ho comprato la mia casa da poco Ed eccola qua Dai avrà I dormitori della scuola Ce lo sai Ecco qua Wow Questa è la mia bellissima dimora Fate come se fosse a casa vostra Wow ma c'è un piano di sopra C'è un piano di sopra certo Ce lo sai con la mia bellissima tv Schermo piatto e gigantonica No vabbè La tv è più grande della presenza dei miei genitori Poi da questa parte abbiamo due tv E Dove c'è? E qua abbiamo la Bello per fare un make up In realtà questa è la mia camera Perché ovviamente c'è la postazione da gaming Io sono un gamer E c'hai anche la postazione da trucco Stavo neanche qua eh Sì perché io mi trucco Mi tolgo le imperfezioni Ah sono Ricky One No Vabbè un pochino Un pochino Ricky mi sembra No io mi chiamo Spreaser Ce lo sai Andiamo di sotto Ricco per la casa ci credo Dopodichè andiamo da questa parte Io già lo sai Ok bene Messo qua Adesso dobbiamo solamente Lascio un caffè Per preparare la festa Va bene? Vabbè L'alcol Il cacciato fuori Allora qua ci stanno le patatine È vuoto Come vuoto? Non voglio pure io le patatine Non voglio pure io le patatine Tieni Ma E ferma Pad de musica Tieni Ok Anche a te Una patatina per ciascuno ragazzi Abbiamo solo patatine Brava brava Easy Easy E come faccio a dartelo Aspetto un attimo Tieni Eh E tieni pure a te Così almeno Andiamo a posto Buona buona Ragazzi Socio Ah Chi ha suonato? Qualcuno ha suonato Sbaglio Ho suonato qualcuno? Ah no Non c'è nessuno Meno male Ok Ho sentito Di nuovo Ma chi è? Oh Ma è tua mano Ciao caro Che sa Oh Salve signora Salve Scusate Ma tesoro te l'ho detto Che volevo partecipare Alla tua festa Ma no Ma che puoi partecipare Alla mia festa Eh la mamma la festa Vabbè Ma per oggi Tu mamma è dei nostri Ma per oggi no Ma per oggi niente Ma per oggi niente No Svelino Comisci niente Aspetta Aspetta un attimo Accetto un attimo Ok bene signora Eh Sgoschi Sgoschi Allora Io Eh prego Mi ho portato un po' di cose Mi sono rubato il carrello Dove le posso posare? Le posso posare? Ma sei un mostro grande No tranquillo tesoro Lo faccio anche io spesso Ah meno male signora Pensavo di essere l'unico Eh comunque Lei che lavoro fa signora? Io Eh faccio la La psicologa La psicologa? Oh Sì Allora andiamo già a sedere Magari possiamo Se può dirci Un po' di più Certo Potete parlarvi Parlarmi dei vostri Tramio infantili Se vi fa piacere Oh va bene Io Si segga qua Si segga qua Mi seggo Mi seggo Non può sedersi Beh beh Allora Ecco qui Comodissimo Chi inizia? Allora Inizio io Allora praticamente Signora Io sono andato in un ambiente Un po' disastrato Ah no Scusate Scusate Che Eh ok Io sono Oh mio dio Aspetti un attimo C'è sua figlia Che rompe Oh La mia piccola Zoe Zoe Che c'è? Ah 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 Scusate Ti veri Ti vero Mi hai buttato Da qua sopra Sbagliato Scusa Ho sbagliato Signora Mi sta micchiando Zoe Firi Abbonabondi Ti ho insegnato meglio Dico sì Ma ti chiama Mamma Ma che cosa dici Ma mi ha buttato Da corto piano Ragazzi basta tirare le palle Per favore Ragazzi Basta tirare le palle Zoe Firi Lo sai Lo sai Cioè Non farmi Non farmi ripetere Devo alzare Devo alzarmi No 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 Zoe Zoe No 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 Ma cosa ci ha battuto Zoe Zoe Aspetta Zoe Zoe Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Signora Valessa Posso fotografare Zoe Senti qua Allora Praticamente Io Devo dirti una cosa Stai calma Ok È tua madre Trattala bene Non si trattano così I genitori No io l'avevo tratto bene Ok Non c'è bisogno Di fare così Senti Ti do un bacio Magari ti calmi Che ne dici Ma sono tutte I voci Mi fanno cambiare idea Sì No 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 Dai Dami un bacio Ragazzi Oh mio Dio Zoe Non mi hai detto Come un ragazzo Oh mio Mamma Mamma Io non volevo Oddio Mamma Mamma Io non volevo Cioè Fateme mia È per questo Che non volevo Perché tu non Hai pensato Vivere la tua madre Ma perché tu non Capisci Mi fai vergognare Questo è nel giornale Scolastico Ma che cosa Vieni Io 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 sono il meglio per la mia bambina capisci Devo Devo Prendermi quella di te Hai solo Hai solo 12 anni Che Cosa Non ho 12 anni Mamma È che No No Ecco È rovinato tutto Mamma No Non capisce Non capisce il tempo Io mi butto Io mi butto Aspetta 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 Quando vuoi Questo è il mio altro migliore Ok grazie Ok grazie Signora Vanessa Vorrebbe andare in camera sopra No Il nostro amico ci sta provando con tua madre La gamba è rotta Non riesco a venire Valla a salvare Tua madre Oh no Signora Vanessa Scusami Il tuo amico mi ha fatto questo gesto Che cosa significa Ma Vanessa è in privato Io me la vado Una cosa E io volevo capire E io volevo capire Oh mio dio ragazzi È un casino I miei amici Facevano un casino Zoe Un casino La mamma Un casino Ma forse perché io sono un casino Guardate questi altri video Andate a guardare Gli altri video Ciao ciao